Musica Ha preso avvio su scala nazionale la campagna Avis Hashtag Esco Solo Per Donare promossa per contrastare la carenza di sangue registrata in tutta Italia da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza per contagio coronavirus e con esso i decreti del governo che hanno imposto a tutti di restare a casa Tra i motivi consentiti per uscire c'è quello di natura sanitaria dunque si può e si deve uscire per andare a donare sangue In Umbria il primo territorio ad entrare in sofferenza è stato il Ternano ma il rischio resta alto per l'intera regione Da qui l'appello del presidente Avis di Gubbio, Loris Chigi, ai microfoni di TRG Sinceramente abbiamo cominciato il periodo del 2020 molto bene quindi stavamo recuperando molto bene sul 2019 e questa prima settimana di marzo è proprio stata un tracollo poi specialmente l'ultimo giorno di ieri soltanto due donatori non vorremmo andare in crisi come sta andando l'Avis Terni che sta facendo appelli perché hanno più scorte di sangue per dieci giorni negli ospedali, però stiamo parlando di ospedali quindi noi sappiamo qual è la responsabilità del donatore e quanto è responsabile il donatore il donatore sa che per la sua caratteristica deve stare molto bene non bene, molto bene quindi già sa che se ha un minimo di raffreddore il donatore deve stare da solo a casa senza tornare senza venire lì al centro trasfusionale cosa succede al centro trasfusionale? al centro trasfusionale anche se non è una sciccheria la sala d'attesa però è pur sempre uno spazio che è separato da dove vengono fatte le donazioni e dove vengono fatte anche le visite lì viene compilato un nuovo stampato un ulteriore stampato dove si chiedono alcune notizie che già sul questionario che viene distribuito erano presenti però stavamo parlando di paesi all'estero diciamo al di fuori dell'Italia questa volta si parla di città o zone al di fuori del nostro territorio comunale quindi uno deve indicare dove uno è stato la temperatura corporea viene misurata prima di entrare nella sala di accettazione del donatore e quindi se la temperatura supera non dico i 37 ma i 36 e mezzo diciamo così per un eccesso di zelo uno consiglia di ritornare la prossima volta però poi all'interno viene fatta una distribuzione di poltrone ma non intesa nel senso politico una distribuzione di poltrone distanti una dall'altra già sono distanti una dall'altra quindi già stanno oltre il metro però cerchiamo di non far un sovrannumero di donatori all'interno del centro nazionale quindi noi possiamo solo dire questo andando a donare non succede assolutamente nulla di sangue ce ne abbiamo tantissimo bisogno perché rischieremo di aggiungere danno al danno e quindi il mio appello è quello di andiamo a donare e rimaniamo nei limiti della nostra sicurezza e del rispetto di tutte le normative che ci sono state impartite il 9 di questo mese l'intervista registrata nella giornata di martedì 10 marzo ha già avuto in parte i suoi effetti se oggi lo stesso presidente Ghigi sui social ha applaudito alla risposta positiva dei suoi concittadini che in settimana sono tornati a donare va ricordato che è possibile in questo momento prenotare il prelievo tutti i giorni telefonando alle rispettive sezioni Avis o al centro dell'ospedale di Branca